Ciao a tutti, qui è Joseph da New York per voi su LivinTV e oggi sulla sezione sport affronteremo sono tre argomenti principalmente, uno ovviamente la NFL con il football dove ieri si sono giocate le championship delle due conference quindi la National e la American, abbiamo visto i Kansas City Chief battere i Tennessee Titans e poi invece nello scontro serale i San Francisco 49ers vincere contro i Green Bay Packers di Aaron Rodgers e poi ovviamente la NBA, visto che ci avvicineremo all'All Star Game e poi per gli appassionati di baseball invece, su una nota un pochettino più problematica lo scandalo che ha coinvolto gli Houston Astros sul fatto che la squadra è stata coinvolta nel filmare i segnali delle squadre avversarie e quelle che sono state le conseguenze prima di procedere nel video ovviamente vi ricordo di sottoscrivervi al nostro canale e di attivare le notifiche ovviamente di farci sapere nei commenti cosa ne pensate dei nostri video e se avete delle richieste particolari su argomenti, giocatori che in particolare preferite avere degli approfondimenti quindi iniziando con l'NFL, ieri è stata una giornata intensa e anche molto entusiasmante quest'anno i match-up tra le squadre erano veramente fantastici perché da una parte c'erano i Kansas City Chiefs con Patrick Mahomes uno dei quarterbacks più sensazionali nella storia dell'NFL Kansas City Chiefs famosi per il loro attacco ma con alcune problematiche sulla loro difesa dall'altra la cenerentola di questa stagione i Tennessee Titans con un record di 9 vittorie e 7 sconfitte sono riusciti ad arrivare alla finale della conference e ovviamente una squadra che invece si basava quasi esclusivamente sulla difesa con un running back che è un gigante che diventa migliore nella seconda metà della partita con Harry, il running back dei Tennessee Titans quindi da una parte attacco contro difesa dall'altra simile tematica con diverse note da una parte Green Bay Packers con Aaron Rodgers il quarterbacks più sorprendente prima che arrivasse appunto Patrick Mahomes un giocatore imprevedibile che con il suo talento può sempre ovviamente sorprendere e fare di tutto Green Bay Packers che hanno cambiato proprio la propria anima di recente con il nuovo head coach dall'altra invece i San Francisco 49ers dove invece una squadra sorprendente soprattutto in difesa con Jimmy Garoppolo il quarterbacks che era il figliolo prodigo di Belichick l'allenatore dei Patriots e ci fu uno scambio abbastanza controverso dove i Patriots diedero Jimmy Garoppolo ai San Francisco 49ers per tenersi Tim Brady che è il goal the greatest of all time il quarterbacks più grande nella storia americana visto che ha vinto 6 Super Bowls il suo destino quest'anno è incerto visto che è diventato free agent quindi non è sicuro se tornerà a giocare con i Patriots o meno le partite di ieri sono state tutte e due molto entusiasmanti perché da una parte i Tennessee Titans hanno cominciato la partita nel modo in cui si aspettava si aspettava con una difesa molto aggressiva il vantaggio nello score per quasi tutto la prima metà e poi invece Patrick Mahomes ha messo la sesta marcia ha portato i suoi attaccanti a segnare punti soprattutto un giocatore in particolare ha segnato 4 touchdown correndo per più di 200 yard quindi un record veramente impressionante e poi ovviamente invece San Francisco 49ers contro i Green Bay Packers ovviamente Aaron Rodgers è un po' uno di quei giocatori che si può paragonare a quello che è stato Francesco Totti in Italia è un giocatore che è talmente talentuoso e bravo che anche se uno non era tifoso della Roma comunque non poteva non tifare per Francesco Totti Aaron Rodgers è un po' la stessa cosa tutti un po' tifano per lui perché è un giocatore talmente bravo poi è un giocatore modello e quindi ha sempre un po' il favore del popolo ma i 49ers invece sono una franchise storica con il famoso l'allenatore Bill Walsh e il quarterback Montana quindi un sacco di storia quest'anno è una squadra particolarmente spettacolare ebbene ieri queste partite si sono concluse se non avete visto i risultati ancora qui è il momento di bloccare il video ma appunto i Kansas City Chiefs vincono contro i Tennessee Titans e invece i 49ers vincono contro i Green Bay per tutte e due le squadre questo significa moltissimo Andy Reid, l'allenatore dei Kansas City Chiefs riporta i Chiefs al Super Bowl dopo 50 anni e invece dall'altra parte Andy Reid è uno degli allenatori più apprezzati qui di football americano mentre per quello che riguarda i San Francisco 49ers ovviamente c'è sempre il fascino della West Coast c'è il fatto che l'allenatore dei 49ers è invece giovane quindi sono due generazioni di head coach che si incontrano due quarterbacks che ovviamente hanno sempre occupato i titoli dei giornali ma Holmes per il suo talento Jimmy Garopolo per la sua vita anche al di fuori del football sempre molto movimentata e poi per essere appunto il quarterback che era stato individuato da Bill Belichick per sostituire per in futuro Brady quindi molte narrative, molti diversi argomenti e ovviamente siamo tutti in attesa adesso del Super Bowl che si giocherà il 2 febbraio lo spettacolo televisivo penso ancora più visto al mondo due squadre che appunto in questo caso i 49ers una fortissima difesa con Bosa, un giocatore veramente straordinario in difesa un incubo per quarterbacks e dall'altro i Kansas City Chief invece l'attacco più esplosivo e spettacolare della Lega quindi uno dei probabilmente abbinamenti migliori in cui potevamo sperare come appassionati di football e quindi vediamo che cosa succederà ovviamente in vista del Super Bowl di Terremo aggiornati e poi ovviamente c'è l'NBA e in questa parte della stagione ovviamente è ancora abbastanza lento perché il football americano è lo sport più seguito adesso siamo verso la fine però guardando un attimo allo score delle conference brevemente ovviamente abbiamo i Milwaukee Bucks in cima alla Eastern Conference Eastern Conference che come sappiamo è sempre un po' più problematica ma anche più perché è un po' più easy non c'è moltissimo talento a essere soprattutto dopo che qua Leonard è andato ai Clippers i Milwaukee Bucks ovviamente sono lì grazie a Yannis Antetokumpo The Greek Freak come viene chiamato qui un giocatore ovviamente straordinario e però come si sa la resa dei Bucks dipende molto da quello che è la resa del suo giocatore e questo si è visto alla problematica l'anno scorso nei playoff dove ovviamente un giocatore solo non può portare una squadra fino in fondo a vincere almeno la conference poi ovviamente il Miami Heat di Butler uno dei miei giocatori preferiti Toronto Raptors al terzo posto abbastanza sorprendente se si considera che qua Leonard The Terminator è probabilmente il giocatore migliore overall tutto considerato e invece sono ancora lì i Boston Celtics sono lì al quarto posto ancora un po' in cerca dell'identità e poi gli Indiana Pacers al quinto Philadelphia un po' deludente al sesto anche questa è una squadra qua c'è stata la polemica per appassionati sappiamo il process il processo per cui diciamo Simmons e Embiid le due star di fatto sono ancora stanno ancora maturando e poi ovviamente visto che siamo da New York e io posso essere un po' contento perché sono di Brooklyn quindi aspetto ovviamente con ansia il ritorno di KD l'anno prossimo di Kevin Durant vediamo poi i Nets dove andranno grazie a Dio esistono gli Atlanta Hawks perché così i Knicks non siamo proprio l'ultimo posto e ovviamente per favore non chiedetemi di parlare di più dei Knicks perché è una sofferenza e invece poi ovviamente Ovest è dove The Real Action la vera azione sta avvenendo in cima abbiamo le due squadre di LA in questo momento come sappiamo i Lakers sono in cima con i Clippers invece si trovano al secondo posto della conference però come sappiamo se si guardano le prime sei squadre a Ovest sono terrificanti abbiamo i Los Angeles Lakers i Clippers i Denver Nuggets i Utah Jets due squadre estremamente solide i Mavericks dove ovviamente abbiamo Luca Donchic che sta dando spettacolo e poi al stesso posto gli Houston Rockets ovviamente di Arden e Westbrook quindi una Western Conference ovviamente molto più interessante molto più dura sarà interessante vedere quelli che sono gli sviluppi e quindi in vista dell'All Star Game ovviamente vi terremo aggiornati fateci sapere in particolare se c'è una squadra o un giocatore su cui volete un approfondimento e infine su una nota doverosa che riguarda la triste storia degli Astros Houston coinvolti nello scandalo dove hanno di fatto sono stati beccati a filmare i segnali che davano le squadre avversari Astros che hanno vinto la Major League nel 2017 adesso ovviamente grande scandalo il General Manager con il Head Coach sono stati licenziati grosso problema ma anche per i Red Sox di Boston perché il suo manager era un manager all'epoca agli Astros e ha vinto un campionato con i Boston Red Sox quindi non si sa bene che cosa succederà alla squadra ovviamente lui è stato già licenziato i Mets qui a New York il proprio allenatore era un giocatore degli Astros nel 2017 quindi un vero e proprio terremoto all'interno della Major League ovviamente questo è un momento in cui tutti vanno dietro alle streghe giustamente perché hanno commesso una cosa idiota e ovviamente il peggio che può avvenire in sport barare così in modo anche stupido pensando di non essere scoperti ovviamente l'altra parte della polemica è cosa fare di questi titoli perché i Dodgers i Los Angeles Dodgers sono anni che inseguono questo titolo e all'epoca persero contro gli Astros in una drammatica serie delle Major League gli Yankees hanno anche qualcosa da dire perché quell'anno furono eliminati dagli Astros quindi insomma molte polemiche è ancora un argomento scottante che per voi appassionati di baseball sicuramente copriremo qui da LivinTV quindi per oggi è tutto ovviamente non dimenticatevi di sottoscrivervi al nostro canale di attivare le notifiche di farci sapere nei commenti se avete in particolare dei giocatori o in particolare alcuni eventi che vi piacerebbe seguire di più da New York per voi è tutto da Livin un saluto e alla prossima Grazie a tutti.